Niente raga, io sono molto arrabbiata perché Paola ha perso il treno e non ha amato, si vede la tua mano L'ho perso, mi vede la data Allora ragazzi, sto andando a cena con una persona che ancora non ha imparato dove abito Papà io abito lì, non qui Lì, capito? Che devo venire a partire fino al terzo piano, c'è la macchina dell'ascensore Nipotini a proposito di genitori, le ultime ore in spiaggia di Marcella Bonifacio che è dalle mie parti, gli esolo Lido in Veneto Poi Marco Maddaloni e Romina partecipano ad un evento luxury fashion Romina di una bellezza unica stasera perché ha sta pelle ambrata con questi occhi chiari che sono una combinazione impressionante Poi Anita se non la riconoscete, Josh e Vittorio Vi ciao